Negli ultimi mesi ci sono stati molte chiamate da parte dei cittadini a Publiacqua e abbiamo visto insomma la rete dell'acquedotto è un po' un colabrodo, anche gli ultimi interventi all'isolotto nei giorni scorsi, molti gli interventi di Publiacqua sono stati sulle grandi opere, il collettore sulla riva sinistra dell'Arno tanto per dirne una, ma non abbastanza forse quelli della rete. Cosa si può dire ai cittadini che lamentano questi disservizi? Ma purtroppo la dovrei smentire nel senso che non è vero che sono pochi gli interventi sulla rete. Publiacqua è tra i gestori che investono di più sulla rete, il problema è che le reti italiane sono vetuste e quindi il fatto che ci siano delle rotture anche molto frequenti è un fatto fisiologico, stiamo parlando di reti che hanno anche oltre 50 anni e come sapete le reti devono essere rinnovate. Rinnovare le reti significa investire molto, Publiacqua lo fa molto di più di tanti altri, non è ancora sufficiente, bisogna insistere in questi interventi di progressiva rinnovamento o sostituzione delle reti per dare delle infrastrutture che siano sempre più moderne possibili ai cittadini. Publiacqua dal canto suo ha nella sua programmazione a bilancio o proprio come interventi programmati un cambiamento di strategia in questo senso? Decisamente sì, il nuovo piano industriale.